Il sindaco di Montalepre Giacomo Tirervi ha rassegnato le proprie dimissioni il sindaco di Montalepre Giacomo Tirervi agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso perché coinvolto nell'operazione antimafia Nuovo Mandamento lo ha deciso per dividere il suo percorso giudiziario con il futuro dell'amministrazione comunale. Questa mattina la lettera è stata protocollata al comune che rimane nelle mani dell'aggiunta e del vice sindaco Pino Pizzurro fino a quando la prefettura non nominerà un commissario straordinario. Mi dispiace che questa magnifica esperienza durata a nove anni sia finita in questo modo dice il vice sindaco Pizzurro perché abbiamo lavorato tanto e bene per il paese. Se Montalepre oggi ha una rete del metano, due parcheggi, un invidiato centro sportivo e tanto altro ancora lo deve al sindaco Tinervia. Ci sono in itinere tanti altri progetti che devono essere ancora sviluppati. Siamo sicuri che Giacomo verrà fuori da questa vicenda che saprà dimostrare la sua innocenza. Siamo però anche fiduciosi nel lavoro della magistratura. Intanto sotto l'aspetto giudiziario la posizione dell'ormai ex sindaco Tinervia si è alleggerita. Sarebbero caduti due dei tre capi di imputazione, l'associazione mafiosa e l'estorsione. Rimane solo l'accusa di concussione per la presunta mazzetta da 7 mila euro. Ma i legali Luigi Mattei ed Enrico Sanseverino sono fiduciosi sull'esito positivo della vicenda. Resta chiusa a tempo indeterminato la chiesa madre di Borgetto. Per risolvere i problemi di staticità che rendono inangibile l'edificio di culto infatti occorrono almeno 250 mila euro. Lo ha stabilito il tecnico di una ditta specializzata in lavori di ristrutturazione e restauro dopo un sopralluogo richiesto dalla Curia di Monreale e dall'amministrazione comunale. Una somma consistente dunque che richiederà quasi certamente un intervento della regione. Così si prevedono tempi lunghi per la riapertura della matrice, chiusa dalla fine del gennaio scorso con un'ordinanza del sindaco Giuseppe Davì. I fedeli potranno continuare ad assistere alle celebrazioni nel salone parrocchiale o spostarsi nelle altre chiese del paese. In questi mesi non sono mancate le proteste e le polemiche per la chiusura del Duomo, dedicato a Santa Maria Maddalena. È edificato nel 1705. I problemi che hanno provocato la sua inagibilità sarebbero legati alle infiltrazioni d'acqua piovana, come si legge nel provvedimento del primo cittadino. Inoltre, i lavori di ristrutturazione hanno interessato anche un ampio tratto della cripta. I tecnici, durante un accorato sopralluogo, hanno verificato che la navata sottastante l'altare centrale ha subito una pericolosa inclinazione, tanto da richiedere un'opera consistente di consolidamento. Ma le risorse economiche necessarie al momento mancano, così come un progetto esecutivo. Tutta questa vicenda è stata preceduta da un giallo, risolto però nel volgere di poche ore. Il ritrovamento di osse umane incontrata Mirto, nei pressi di un terreno confiscato alla mafia. Il resto, ritrovati in mezzo a cumuli di materiale di scarto dei cantieri, apparterebbero ai resti di salme che anticamente venivano seppellite nelle chiese. Il movimento più in una prospettiva destinata al raggiungimento del risultato rifiuti zero intende promuovere e valorizzare in Sicilia il modello di discarica adottato a Peccioli, comune toscano della provincia di Pisa. In stretta collaborazione con il sindaco di Partinico, Salvolo Biondo, che condivide tale ipotesi di progettualità, stamattina si è svolto un tavolo d'incontro dal tema Emergenza e rifiuti in Sicilia, una proposta concreta in risposta al disastro ambientale di oggi, al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni della costa, i cittadini e rappresentanti del mondo ambientalista. L'idea Peccioli è un'idea per cercare di risolvere il problema dei rifiuti, ma più che altro lanciando questa idea, questa iniziativa per cercare di far capire al governo regionale che bisogna confrontarci col mondo dell'associazionismo, con i sindaci, perché solo così si può riuscire a trovare una via di uscita. Perché la legge nuova è una legge obsoleta, una legge che è stata modificata e rappezzata nell'ultimo periodo per cercare di dare maggiore potere ai sindaci, però non risolve i problemi. Bisogna trovare e fare un piano del rifiuti adeguato con queste nuove idee e tecnologie che possano permettere di portare a una differenziata spinta e eliminare le discariche in Sicilia. Spesso noi sindaci siamo in prima linea, siamo criticati perché la colpa è nostra del mancato servizio, delle situazioni, delle crisi che si vengono a trovare dei rifiuti, ma io vi faccio un esempio tra tutti. Il sindaco Orlando è stato votato a furor di popolo a Palermo perché doveva risolvere il problema dei rifiuti e tanti altri problemi. Purtroppo si è trovato a impattare su un problema che non è un problema che dipende da lui, ma è un problema che purtroppo dipende dalla normativa perché l'emergenza rifiuti l'ha avuto Orlando, Orlando da più di un anno che è al governo della città di Palermo, però è stato impotente a poter risolvere il problema. C'è voluto un intervento nazionale per risolvere questo problema di crisi, quindi vuol dire non è solo partinico che ha i problemi, anche un sindaco sannato dalla gente come Orlando ha avuto questi problemi. Un problema è un problema normativo perché noi siamo impotenti, noi possiamo dare il nostro aiuto, mettere in campo le nostre idee per risolvere il problema, però il governo regionale e nazionale ci deve ascoltare. Un incontro con i sindaci dei comuni della zona per parlare di un nuovo modello, di cosa si tratta? Allora, in sintesi l'oggetto della discussione di oggi è un modello di smaltimento rifiuti che abbia un compito importante, quello di unire un ente locale, regione e cittadini che partecipano insieme a qualcosa che poi si trasformi in un risultato economico per un territorio. Il sistema Pechel è un sistema dove vengono conferite dei rifiuti, i rifiuti vengono trasformati in biogas che servono poi per la trasformazione in energia che può essere conferita a quartieri della città vicina dove esiste l'impianto. Il percolato viene trasformato in acqua per i campi o per i vigili del fuoco. Immaginate un centro di smaltimento dove si possono, e noi abbiamo partecipato, organizzare sfilate di moda. Immaginate il livello di sicurezza e il livello anche di qualità per ciò che c'è attorno. Se si possono organizzare delle sfilate di moda dentro un centro di smaltimento vuol dire che non senti odore. Il progetto quindi da una parte è legato alla partecipazione di regione, comune, cittadini con l'intento di avere un risultato in termini di infrastrutture, significa asili, significa scuole, significa musei, significa biblioteche, tutto quello che appartiene alla comunità. Questo è l'obiettivo l'obiettivo di cosa è attorno a un smaltimento di questo tipo. In casa PD i giochi sono fatti. Chiara Gibilaro, 60 anni, dirigente scolastico, corre per la poltrona di sindaco. Una candidatura trasversale scaturita dopo un confronto tra le diverse anime del partito che alla fine ha messo d'accordo tutti. Presento la mia persona, il mio bagaglio professionale, il mio bagaglio valoriale, la mia faccia, la mia conoscenza e voglio incontrare tante cittadine, tanti cittadini, tanti giovani, gruppi, associazioni di volontariato, partiti politici, aggregazioni. Voglio che si possa coniugare la mia proposta per la poltrona a sindaco con tutte le forze che vogliono lavorare insieme a me con un progetto che naturalmente presenterò nel giorno della presentazione ufficiale. Uno dei temi della sua campagna elettorale sarà il recupero del rapporto tra la politica e i cittadini attualmente in crisi. Recuperare questo rapporto è un mio obiettivo prioritario. Io voglio recuperare attraverso l'ascolto attivo, attraverso il confronto, attraverso la dialettica ma non la polemica per ricostruire insieme a tutti coloro che vogliono farlo insieme a me un percorso che porti alla trasformazione di questa città di Partinico in una comunità, una comunità aggregante, una comunità che possa fare sentire tutti, tutti bene. Nel gioco dell'alleanza il PD cosa ha deciso? Nel gioco delle alleanze il PD è aperto. Il PD è un partito che è aperto a tutte le alleanze e comunque io da questo momento mi occuperò di fare sintesi di questi incontri, di queste possibili altre aggregazioni e lo farò io. Chiara Gibilaro. Il candidato sindaco apre le porte ai giovani ed annuncia che la loro presenza, sia uomini che donne, sarà garantita nella lista del PD grazie alla doppia preferenza di genere. Nella stessa lista cioè si possono esprimere due preferenze anziché una e la seconda, facoltativa, dovrà essere per un candidato di sesso diverso. Io ho chiesto soprattutto ai giovani, noi abbiamo un bel gruppo di giovani democratici ma anche non giovani democratici, da qui lo chiedo agli altri giovani di fare parte della lista a mio sostegno. Ci saranno anche meno giovani e soprattutto ci sarà la presenza del genere. Quindi ci saranno uomini e donne, cittadine e cittadini che vorranno condividere con me questo percorso. Per Enrico Colaianni importare i gazebo di consumo critico a Borgetto è un po' come chiudere il cerchio. Da qui è stato lanciato qualche anno fa un SOS da imprenditori e commercianti stanchi di essere taglieggiati. Ed è qui a Borgetto che ha messo radici Liberaiato, la prima associazione anti-racket del territorio. Noi la prima chiamata che ho ricevuto a fine 2010, primi del 2011, era dopo l'operazione di polizia di un gruppo di imprenditori la cui maggioranza era di Borgetto, naturalmente gente che lavora in circondario, prevalentemente imprenditori edili, che mi chiamarono perché volevano cominciare a costruire un'associazione. Abbiamo fatto un lungo percorso e quindi questa tappa chiude questo cerchio dopo due anni e passa e ritorniamo a Borgetto, in questo caso a raccogliere le firme dei consumatori, a sensibilizzare i cittadini, ma il tema è sempre quello e il tema è appunto non solo gli imprenditori, ma le istituzioni, i cittadini, tutti quanti devono e possono fare qualcosa. E quindi ritorniamo qui con grande piacere e devo dire che abbiamo trovato anche un'adeguata accoglienza. Abbiamo anche raccolto delle adesioni di imprenditori al consumo critico, che sono adesioni più significative, per cui molto presto faremo altre di queste raccolte di firme in altre località di Borgetto, perché la piazza effettivamente risponde in maniera interessante, gli imprenditori rispondono in maniera interessante. È stato pubblicato il bando per i lavori di ristrutturazione della via Baciala, di cosa si tratta? È un'opera molto importante che Partinico aspetta diverso tempo. I cittadini della via Baciala per diverso tempo hanno subito diverse promesse, che poi regolarmente sono andate a vuoto. Questa amministrazione ha preso l'impegno di completare i lavori quella strada, che verrà praticamente finalmente asfaltata, verranno rifatti anche gli allacci per l'acqua e per le fognature. Un'opera avviata dall'assessore Pantaleo, un percorso uniter e burocratico abbastanza lungo, devo dire anche tormentoso. Finalmente, proprio oggi, gli uffici stanno pubblicando il bando per la gara d'appalto, quindi secondo i tempi utili verranno appunto appaltati i lavori, verrà fatta quest'opera e quindi verrà mantenuto un impegno, un impegno con i cittadini, un impegno con Partinico, un impegno che abbiamo preso e come il 90% di quelle che riusciamo a fare lo portiamo a termine. Il progetto provvede alle opere di urbanizzazione, è un finanziamento del 2003 che non è mai stato portato a termine, in quanto ci sono state anche con le passate amministrazioni delle direttive contrastanti. Nel 2008, quando ci insediamo come amministrazione, abbiamo cominciato dal livello preliminare, abbiamo redatto il progetto preliminare, poi abbiamo eseguito quello definitivo, è stato approvato quello esecutivo, c'era un problema di espropia, quindi con le cessioni dei terreni e devo ringraziare molti, circa il 90% dei cittadini che hanno ceduto gratuitamente il loro terreno e quindi si sono aperti i contenziosi con alcune ditte che invece non volevano cedere a titolo gratuito il terreno. Quindi era un importo, è un progetto che partiva nel 2003, su un finanziamento del 2003 che ovviamente con gli aggiornamenti delle opere pubbliche per quanto riguarda i tariffari, ovviamente ha subito delle modifiche, enormi modifiche, per il fatto che le somme ovviamente non bastavano, quindi il progetto è stato un po' stravolto rispetto a quello originario e oggi arriviamo dopo i due passaggi in Consiglio Comunale. Io vorrei ricordare che ci sono state le mie dimissioni in Consiglio Comunale, quando durante un Consiglio Comunale mancò la maggioranza per approvare questo progetto, io presentai le mie dimissioni al Sindaco. Il Sindaco del Revoco all'indomani questo progetto è stato approvato con grande responsabilità da parte del Consiglio Comunale. Mi complimento per quanto sono documentati, probabilmente i consiglieri comunali oltre a chiedere agli uffici cose diverse da quelle generali, assumono informazioni, però credo che siano disinformati perché avrebbero potuto chiedere agli uffici quello che si sta facendo per la risoluzione dei problemi che hanno evidenziato. Si sta lavorando nelle difficoltà economiche che abbiamo, però si sta lavorando. Di certo hanno affrontato una serie di problematiche che in tutti questi anni, anzi da anni sono aperte e stiamo cercando di chiudere. Mi chiedono il piano regolatore nell'arco di due anni, ci si sta lavorando, doveva farsi il passaggio consigliere, ma di certo dall'oggi al domani non si può risolvere, ma è una cosa che faremo sicuramente e ci stiamo lavorando. Mi dispiace sicuramente che i consiglieri dimostrino di essere così informati quando poi alla fine il contributo è quasi inesistente. Mi fa piacere che la consigliera Ferrigno abbia invitato i cittadini a venire in Consiglio Comunale. Io auspico che questo avvenga in maniera tale che si venga a verificare il diverso comportamento della maggioranza che sostiene le difficoltà dell'amministrazione è un'opposizione sempre assente, un'opposizione che nella massima delle sue esinsegazioni o nel massimo del suo contributo politico è quello di una critica sterile. Si è visto ultimamente quando si è discusso della possibilità di mantenere l'ufficio del giudice pace che è una presenza nel territorio della giustizia italiana che in difficoltà si stanno accentrando nella città di Palermo l'opposizione ha ritenuto più importante allontanarsi dall'aula nonostante ci fosse soltanto questo punto da discutere evidentemente con una scusa perché non vogliono assumere nessuna responsabilità e nessun contributo fattivo nella risoluzione degli interessi e quello di garantire anche una giustizia in un compensatore come il nostro credo che sia uno dei punti importanti. Poi parlare di antimafia è sempre importante però quando ci sono da fare atti concreti è più facile scappare. Per quanto concerne il problema della spazzatura loro certamente non hanno compreso quello che si sta facendo perché evidentemente non partecipano attivamente ai lavori consigliari e a quello che si fa anche per gli uffici. Recentemente è stata emessa una circolare a seguito che in sostanza dà ragione a quella che è la posizione di Terrasini e di Cinesi. In sostanza il governo regionale ha dovuto riconoscere, gli uffici regionali hanno dovuto riconoscere che quello che era il progetto sperimentale presentato in anticipo dal comune di Terrasini e quello di Cinesi è la soluzione del problema della spazzatura. Oggi stiamo studiando la procedura da attivare e la attiveremo nel più breve tempo possibile ma ci vogliono i tempi tecnici. Evidentemente l'occupazione primaria che attualmente abbiamo è quello di tamponare le emergenze continue e riusciamo a mantenere nonostante la disinformazione creata da molti consiglieri che consigliano di non pagare la spazzatura e quindi di incrementare ulteriormente il problema che noi attualmente cerchiamo di tamponare in attesa della definizione definitiva del problema attraverso l'attivazione delle procedure che abbiamo detto. Il porto stiamo lavorando attualmente per quanto riguarda il finanziamento FEPP, dobbiamo predisporre il progetto definitivo e ci stiamo lavorando ma non è facile ottenere dalla regione i pareri per ottenere i visti necessari alla predisposizione del finanziamento e quindi andiamo dietro alla regione in attesa della soluzione di questo problema importantissimo per tamponare delle emergenze strutturali del porto. Per quanto riguarda lo specchio d'acqua che abbiamo concesso ai diportisti locali, tutti sappiamo chi sono i diportisti locali, anche qui un impegno costante dell'amministrazione, del Presidente del Consiglio e di rappresentanza dell'intero Consiglio perché noi non facciamo distinzione quando andiamo alla regione, diciamo che l'intero comune dell'amministrazione al Consiglio perché se dobbiamo portare le posizioni che qualcuno porta avanti faremo soltanto brutta figura. Parliamo dell'intero Consiglio, si è speso alla regione, al Dipartimento per il Demanio per la soluzione del problema e attualmente siamo in dirittura d'arrivo anche per questo problema relativamente all'insabbiamento del porto, effettivamente tanti anni fa è arrivato un finanziamento, un finanziamento di 100.000 euro che cercheremo di spendere nonostante le difficoltà che ci sono per togliere la sabbia. Il problema concreto, gli uffici mi dicono che le somme non sono sufficienti soltanto a fare la caratterizzazione del materiale da togliere ma si potrà con quelle somme a disposizione di sabbiare una parte infinitesima dello specchio d'acqua. Relativamente alla programmazione estiva stiamo lavorando, l'assessore Favazza, il vice sindaco, l'assessore allo sport, al turismo sta predisponendo il piano per l'estate. È chiaro che attualmente siamo in dodicesimi di bilancio, non abbiamo il bilancio anche perché dobbiamo andare a valutare quali sono le risorse disponibili e dobbiamo tenere conto anche dei mancati trasferimenti che attualmente abbiamo da parte della regione. Ci devono accreditare una parte della terza dimensalità del 2012 e la quarta dimensalità del 2012, quindi lo Stato sta completando il 2012, quindi noi possiamo contare soltanto sulle risorse locali. Si è conclusa nella tarda mattinata di venerdì scorso, mentre a Monreale era in corso la festa del crocifisso, la latitanza di Vincenzo Cappello, 34 anni, monrealese. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri al termine di un inseguimento concluso a Bagheria. Il giovane, originario di via Ponte Parco, era già stato arrestato il 31 ottobre del 2011 sul corso principale di Balestrate, ma si era reso poi latitante dopo essere stato scarcerato a causa dell'indulto. Sulle spalle ha una serie di rapine. Proprio per questo era gravato già dallo scorso gennaio da un ordine di esecuzione per un cumulo di pene ammontante nel complesso a tre anni di reclusione e più di 2.000 euro di multa per furti aggravati ed altri reati. Peraltro durante la latitanza armato di pistola aveva tentato di rapinare due donne nella loro abitazione di via Corpo di Guardia, poi si era dato alla fuga, determinante il contributo della più giovane delle vittime che, collaborando con le forze dell'ordine, ha consentito di riconoscere l'autore del reato, consentendo inoltre l'emanazione di un'altra ordinanza di arresto da parte del GIP presso il Tribunale di Palermo, che lo ha individuato quale colpevole anche di questo ulteriore misfatto. I carabinieri erano sulle tracce nonostante Cappello avesse cambiato più volte scheda SIM nel suo telefonino ed utilizzasse vettura insospettabile per i suoi spostamenti. In questo caso si sarebbe servito di una macchina intestata ad un'altra ragazza, probabilmente legata a lui da un rapporto ancora da chiarire. Sapevano per certo i militari, anche grazie alle intercettazioni telefoniche, che Cappello sarebbe tornato a casa, spinto dal desiderio di assistere alla festa del crocifisso. L'amministrazione comunale alcamese, guidata dal sindaco Sebastiano Bonventre, con delibera del 23 aprile, ha approvato il bando pubblico emanato a sua volta dall'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, aventi ad oggetto acquisizione di proposte di manifestazione ed interesse finalizzato alla partecipazione al bando pubblico regionale per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città. Nello specifico, il Comune di Alcamo ha previsto che soggetti pubblici e privati interessati possono presentare programmi integrati per la riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale di aree pubbliche e private. Obiettivo del processo di concertazione è consentire al Comune di Alcamo di far fronte al fabbisogno abitativo, con particolare riferimento alle fasce più deboli e consentire una più razionale utilizzazione e riorganizzazione di porzioni del territorio urbanizzato, mediante il potenzionamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria con il massimo contenimento della spesa pubblica. La proposta di programma integrata dovrà essere consegnata in plico chiuso con la dicitura proposte di manifestazione di interesse alla concertazione per programma integrato di intervento, al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12, a decorre dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio, cioè entro la data perentoria dell'8 maggio 2013. La maratonina di Terrasini non tradisce le aspettative e si veste del suo abito più bello per la tredicesima edizione. Oltre 1100 attreti al via, record della manifestazione. Tre i giri per un totale di 21 chilometri, un percorso impegnativo reso ancora più duro dal caldo e dalle folate di vento che i podisti hanno dovuto fronteggiare soprattutto lungo lo splendido lungomare di Cala Rossa. A vincere è stato Vincenzo Agnello della Running Club Futura. L'atleta, allenato dal professore Ticali, ha chiuso in un'ora 10 minuti e 10 secondi, precedendo di quasi 50 secondi Francesco Ingargiola della polisportiva atletica Mazzara. Terzo, Vito Massimo Catania, amatori regalbuto. Traguardo conquistato oggi, traguardo conquistato però anche qualche giorno fa dove hai ottenuto la qualificazione per i campionati italiani. Sì, allora domenica ho fatto una gara in Lombardia, ho fatto il minimo per i campionati italiani, cioè l'attento era di fare il minimo per gli italiani per poi fare buono ai campionati italiani appunto. Quest'anno sono ancora under 23 quindi provo per fare il minimo per gli europei, cioè è alla mia portata, non è facile da farlo però si può fare. Oggi sono venuto qua con l'intento di fare un medio di 14 chilometri, ho detto faccio due giri. Poi ho visto che il percorso era stupendo, la gente accogliente, cioè era tutto perfetto quindi ho detto continuo fino alla fine, tanto ho fatto un ottimo allenamento in compagnia. Ti sei divertito e hai scaricato secondo me? No, scaricato no, però sì mi sono divertito perché anche c'erano atleti di altissimo livello come Igargiola e Benici che ai tempi correvano molto forti di adesso. Prossimi tuoi obiettivi quali sono? Ancora quando? I prossimi obiettivi sono i 18 campionati italiani di 10.000 che è là appunto per fare il minimo per gli europei. Se va bene faccio gli europei, se incrocio le dita, se non va bene inizio a fare delle mezze e delle gare su strade. Tra le donne il successo è andato a Irene Susino della SD Sporti Nuovi Eventi con il tempo di un'ora 28 prime e 18 secondi. Non era facile correre con queste condizioni meteorologiche, caldo, poi un po' di vento però sei arrivata prima qualmente. Sì, sì, bisogna mettergliela tutte perché il vento ti trascinava, però lì per lì se mentalmente ci sei la gara ti gira facilmente nelle gambe. È stata faticosa ma ce l'ho fatta. Non è la prima gara che fai? Ogni volta dove trovi le motivazioni per andare avanti? Per vincere la motivazione perché voglio arrivare alla prima. La gara è stata organizzata dalle società Atletica Terrasini e Amatori Palermo. Una grande soddisfazione, ben partecipata a più di mille atleti. Sì, anno per anno andiamo superando sempre. Siamo partiti con 200 dal 2001 e siamo arrivati a 1120, 110, una cosa del genere. È stata una grossa soddisfazione, una buona organizzazione. Organizziamo assieme alla società Amatori Palermo, che compino su terra, che abbiamo buoni rapporti di gemellaggio delle società e tutto questo. Quanto lavoro c'è dietro una preparazione di una preparazione? Una preparazione, ci sono un mese e mezzo di lavoro per tutta la situazione di organizzazione e via di seguito. L'ultima settimana è più stressante delle prime. Si pensa già al prossimo anno? Già ci stiamo lavorando nel prossimo anno. Siamo in fase di lavorazione nel prossimo anno. Agnello, un professionista, si è qualificato per i campionati nazionali, una presenza importante ha chiuso con un tempo buono. Indubbiamente sì, un tempo buono, anche se onestamente ci aspettavamo di meglio. Sicuramente il vento ha influito molto, specialmente sul lungomare, ma intanto un'ottima prestazione. Anche il caldo? Anche il caldo sicuramente, indubbiamente. Le condizioni non erano ideali per fare dei tempi ottimi, ma vedo che nonostante tutto qualcuno ha migliorato anche il suo personale, quindi una giornata positiva. Abbiamo tenuto bene il campo prima del gol. Giocare lì non è facile per niente. Ha parlato così questa mattina in conferenza stampa il capitano del Palermo Fabrizio Miccoli riferendosi alla partita di ieri allo Juventus Stadium contro i bianconeri. È una delle squadre più forti d'Italia, ha detto Miccoli. Non è facile fare il risultato a Torino. Andiamo avanti e prepariamo la gara di mercoledì con l'Udinese, che sicuramente è fondamentale per noi. L'Udinese è certamente la squadra più in forma del campionato, ma noi dobbiamo vincere la partita già da domani, quando andremo in ritiro. Avevamo anche tenuto bene il campo, nel senso che comunque giocare là è molto difficile. Loro forse è una delle squadre più forti che c'è in Italia, sicuramente la più forte, quindi non è per niente facile andare là e cercare di fare risultato. Fino al punto del rigore avevamo anche tenuto bene il campo. Forse l'unica cosa è che nelle ripartenze qualche volta abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e potevamo fare qualcosina in più, però penso che fino al momento del rigore la squadra ha fatto bene. Mi dispiace anche per il palo, perché a volte anche basta poco. Magari quella palla prende il palo ed entra, piuttosto che prendere e uscire, le cose sarebbero sicuramente cambiate. Però andiamo avanti e ci prepariamo a questa partita di mercoledì che poi è tutto per noi. A me dispiace più l'atteggiamento che c'è. Io non so neanche se posso parlare, se posso dire quello che penso, delle cose, perché sto diffidato. Ho paura, cioè io mercoledì mi gioco tutto. Ho paura, non so come prendono le mie parole. Quindi non so che dire, è meglio forse se sto zitto. Però quando a me non mi viene data una punizione al 44esimo al limite dell'aria, una punizione che è grossa quanto a una casa, perché se vede che sto calciando mi butta giù. In più io da capitano non posso parlare, perché l'arbitro mi dice se sei diffidato, appena parli un'altra volta ti ammunisco. Quindi io che faccio? Oltre il danno pure la beffa. E allora non so come comportarmi, non lo so. Ho preso una munizione che forse è la prima della storia. Facciamo gollo, esulto, ma munisce. Perché secondo lui mi sono buttato in aria. L'azione è già finita con l'Inter. Avevamo già fatto gollo, penso che non ho mai visto una cosa del genere. Quindi forse è meglio se sto zitto. Ma non lo so. Ma io non vorrei usare questa parola, se no mi squalificavo davvero alla fine. Però io credimi, non so cosa pensare. Non lo so. Io quest'anno veramente ho visto di tutto. L'unica squadra che è l'ultimo rigore che ha preso, l'ha preso in casa con Milan. C'è un girone e anche di più, un girone e mezzo. E ogni partita non dico che c'è stato qualcosa di dubbio, ma quasi. Quindi su 22 partite magari qualcosa ci sarà stato. Non lo so. Poi al di là del rigore di ieri, io non voglio sicuramente togliere merito alla Juve perché questo Scudetto l'ha vinto non meritatamente ma di più. Però guarda caso, ieri c'era il Palermo di mezzo. Una partita comunque equilibrata da una parte e dall'altra. Mancavano 20 minuti. Non so cosa si è pensato a dare quel rigore. Io penso sempre che fosse stata una parte inversa. Io questo dico, no? Fosse stata una spinta, io, Miccoli, sopra la pallinaria, in area della Juve. Chiellini mi viene dietro, io cado così. Rischio la squalifica perché sto diffidato, rischio di prendere la munizione. A me dispiace veramente perché è una squadra che si gioca la vita, va a Torino, tiene botta la Juve per 70 minuti. Ha la possibilità magari in contropiede anche di fargli il gol come è successo che poi abbiamo preso il palo o qualcosa abbiamo sbagliato nell'ultimo tocco ma avevamo anche la possibilità. Il Palermo noi non meritiamo questo trattamento. Cioè io poi ho la fascia. Potrò andare all'arbitro e dire non lo so ma sei sicuro che il rigore hai visto bene, confrontati con il quarto uomo, c'è là uno che magari... No, non le posso dire perché io non posso parlare perché come parlo mi ammuniscono. Adesso sto diffidato quindi devo stare zitto e quindi non so come mi devo comportare.